Ecco, dicevo, in una città come Torino, questo intervento massiccio che viene fatto da più fronti, perché in realtà appunto si lavora per creare le aree pedonali, si lavora per migliorare il sistema di trasporto, si lavora perché il metro sia efficiente, ha inciso sulla cultura dei torinesi? Cioè i torinesi stanno raccogliendo, stanno cambiando cultura o per esempio il fatto di ricorrere ai mezzi locali è anche, non so, per esempio sintomo di una crisi? Beh, è un combinato disposto delle due cose, nel senso che la cultura sta cambiando e la crisi sta aiutando il cambio di cultura. I dati sono molto importanti, noi abbiamo il 15% di persone in più che scelgono il mezzo pubblico lasciando il mezzo privato a casa. Il problema vero è che la situazione economica finanziaria degli enti locali ti mette nelle condizioni in questa fase di dare meno servizio in una fase nella quale hai più domande e quindi rischi di bruciare quella domanda. Il cambio culturale non è tanto sullo scegliere anche di lasciare la propria autovettura a casa e di prendere il mezzo pubblico quanto di riuscire a far convivere tutti questi mezzi di trasporto e quindi le modalità di trasporto devono essere, come posso dire, rispettose l'una dell'altra soltanto in questa maniera all'interno di una città complicata come quella di Torino ma assolutamente affascinante dal punto di vista della mobilità si riuscirà a far convivere tutti i sistemi. Il tavolo della sicurezza stradale che abbiamo messo in piedi come assessorato ha esattamente questo obiettivo, cioè far rispettare le regole del gioco al pedone, al ciclista, all'automobilista e al camionista. Se tutti questi soggetti, quindi utenti deboli e utenti più forti della mobilità rispettano le regole del gioco la convivenza è possibile e sono contento di poter annunciare che anche i numeri degli incidenti mortali anche se negli ultimi giorni c'è ancora stato un investimento su un attraversamento pedonale ma comunque stanno diminuendo dal punto di vista del numero annuale quindi vuol dire che sta funzionando questo sistema di mettere insieme i vari soggetti e provare a farli convivere rispettando le regole del codice della strada. Questo è il grande appello che io faccio sempre l'amministrazione può fare molto e quindi è chiamata a farlo c'è un pezzo che non può fare l'amministrazione che è il senso del rispetto delle regole che tutti devono avere. È una risposta che deve arrivare dal cittadino. Tra l'altro ieri parlando di mobilità e traffico in città non abbiamo parlato degli spazi dedicati ai disabili ma in questo progetto so, a parte poi vivendo a Torino lo vedo ma vedo che avete dedicato insomma grande attenzione agli spazi che devono essere riservati a queste categorie. Gli spazi e soprattutto l'accessibilità. Il problema delle barriere architettoniche è un altro tema che all'interno del nostro assessorato viene affrontato da un team specifico e su questo tema al di là anche degli spazi, degli stalli per le autovetture quindi il posto riservato, il posto a rotazione che è previsto dal codice della strada c'è una grande attenzione anche a quelle che sono le capacità di movimento poi all'interno della città da parte della disabilità. Segnalo che Torino è una delle poche città ormai rimaste in Italia che ha il servizio dei buoni taxi, cioè il servizio del trasporto dei disabili con i taxi pagato anche in parte dalla città di Torino con risorse pubbliche. Ormai tutte le città stanno cancellando questo servizio perché le finanze degli enti locali non lo permettono più. Torino ha il vanto avendolo riorganizzato e avendo creato anche un po' di discussione con l'associazione dei disabili però aver mantenuto questo servizio e puntiamo all'obiettivo di far entrare anche alcune persone che sono nella lista di attesa.